La nostra visione della casa del futuro è un ambiente che sarà in continua trasformazione, si adatterà molto alle proprie esigenze, si cercherà molto di rispettare la natura e di inquinare il meno possibile. Quindi in questo caso, in questa residenza presso casa base, collaborando con Ikea, abbiamo portato qui il nostro laboratorio, o una piccola parte. Nel senso che abbiamo a disposizione attrezzi e soprattutto una stampante 3D che può stampare oggetti che si adattano agli aree di Ikea. A noi piaceva molto questo concetto di base. In un futuro ci si scambierà più bit che atomi, o comunque sarà possibile trasferire con facilità le istruzioni per delle macchine per costruire gli oggetti e ci saranno delle piccole fabbriche diffuse. Abbiamo fatto un prodotto non prodotto, un metaprodotto. Se qualcuno lo vuole, se lo può scaricare, può trovare un laboratorio vicino a casa sua dove realizzarlo. Cosa va' pues 이상amente dire Cosa vabury comodo? Cosa va per fiam 추verare del mondo. Grazie.